ehi benvenuti su questo video tutorial oggi fancy vuol farvi vedere come mettere sul desktop questa icona che sarebbe il box login della vostra casella riposta elettronica che può essere team.it team.it oppure alice.it bene andiamo a vedere dovete aprire internet explorer che sarebbe google digitare team mail premere invio cliccare sul primo che vi appare ed eccolo qua questo è il box login che può essere team alice o team perfetto subito dopo cliccate su questa rotellina qua strumenti quando vi si apre eccola qua dovete cliccare su questo aggiungi il sito a visualizzazione app io non lo faccio perché c'erò perfetto fatto questo andate su start e ve lo trovate qui in cima a questo punto tasto destro scendete su invia a e scegliete desktop crea collegamento ci cliccate sopra e vi appare immediatamente sul vostro desktop l'icona del box box login ci cliccate sopra due volte e siete dentro la vostra casella riposta elettronica qui mettete la username scegliete uno di questi tre la vostra password e cliccate su entra e siete nella vostra casella bene con questo è tutto vi ringrazio per la visualizzazione lasciate un like iscrivetevi e ricordate che fonzi e i pollici in su ciao ragazzi